Taglio del nastro e benedizione dei locali da parte del parroco Don Bruno Lancuba questa mattina per la nuova filiale della BCC di Aquara in via salvo d'acquisto ad Agropoli. Presenti diversi amministratori del territorio e dipendenti della BCC di Aquara che hanno presenziato all'importante momento inaugurale, sono 16 le filiali attive presenti su tutto il comprensorio del parco. Le banche di credito cooperativo sono più vicine alle imprese del territorio e capaci di ascoltare i piccoli clienti. Con questo messaggio il direttore della BCC di Aquara Antonio Marino ha avviato i lavori del nuovo sportello. Oggi iniziamo ad operare più che parlare di inaugurazione che è un termine diciamo sempre un po' roboante insomma no? Facciamo una cosa molto soft come è giusto che sia in questo momento particolare per noi, per l'Italia, per tutti insomma e quindi inizia ad operare questa nuova filiale di Agropoli. È una soddisfazione per tutti noi perché effettivamente ci abbiamo lavorato tanto e speriamo tanto di poter ripetere anche qui le buone cose che abbiamo fatto in tanti altri posti. Questo è il sedicesimo sportello della nostra banca e speriamo che dia dicevo quei frutti che ci aspettiamo. Tra l'altro l'agropolo l'abbiamo scritto anche nel manifesto di presentazione, è una cittadina vivace economicamente, socialmente che ha delle grandi opportunità e quindi è giusto che noi siamo qui ed è giusto che ci aspettiamo dei buoni risultati. Ci sono già sei banche nella città di Agropoli ma come a lei piace sottolineare la cassa rurale è vicina ai cittadini e alle piccole realtà. È vero ci sono altre banche di interesse nazionale però noi dobbiamo dire che abbiamo l'esempio del paese confinante cioè di Capaccio dove negli ultimi due anni, tre anni ha chiuso il Monte Paschi, ha chiuso il Banco Napoli, ha chiuso la Banca Ubibanca, hanno chiuso tutte le grosse banche e sono rimaste le due banche di credito cooperativo Acquare e Capaccio. E questa la dice lunga sul fatto come le grosse banche oggi vanno cercando quella redditività. Noi invece ancora riusciamo a fare banca laddove inseguiamo anche la socialità oltre che il reddito. Tra l'altro dovete sapere che nel 2019 in Campania hanno chiuso 122 sportelli di banche, 122 non sono pochi, nessuno di questi 122 sportelli era una banca di credito cooperativo. Erano tutte grosse banche che indietreggiano diciamo mentre chi è che non indietreggia sono le banche di credito cooperativo. Una ragione pure c'è, noi speriamo di ripetere ciò che è accaduto a Capaccio, speriamo di ripeterlo anche qui, cioè che le banche di credito cooperativo di qua riescano sempre più a posizionarsi a discapito delle grosse banche, anche perché guardate oggi le banche più grosse sono più attenti ai clienti più grossi. Noi ancora se dobbiamo scegliere tra un mutuo di 100.000 euro o 10 mutui da 10.000 euro, una banca di credito cooperativo sicuramente preferirà fare 10 mutui da 10.000 euro. Una giornata anche questa importante per la nostra città, innanzitutto salutiamo l'arrivo di un istituto bancario importante che si è distinto in questo territorio per la grande disponibilità. Quindi ringraziamo il direttore Marino, il presidente, il consiglio di amministrazione, i soci che hanno voluto destinare nella nostra città un loro sportello, questo ci fa ben sperare. E naturalmente questo è un ulteriore segnale positivo che possiamo aggiungere a tanti altri che abbiamo raccolto in questi mesi per quanto difficili, ma nonostante tutto, nonostante difficoltà, la città di Agropoli ha dimostrato una certa vivacità. Tante attività commerciali che sono in sofferenza, ma tante altre che cercano di lanciare il cuore oltre l'ostacolo e cercare di riaprire, di rimaginarsi, riorganizzarsi. E quindi attività piccole, attività medie, un'attività come questa, un'attività importante, naturalmente nel istituto bancario, quindi di una certa rilevanza, però segnala ancora una volta, se ce ne fosse necessità, che è una città questa, la nostra, in movimento e quindi ci fa ben sperare per il futuro e chissà, sperando al termine della pandemia essere veramente pronti per rilanciare la nostra attività e recuperare il tanto terreno perduto.